Prenderanno il via il 3 di ottobre le lezioni del nuovo corso di laurea in diritto dell'ambiente e dell'energia promosso dall'Università di Teramo ma che aprirà le sue porte agli studenti presso Palazzo degli Studi a Lanciano. Si tratta del primo corso di studi in Italia utile a formare e stimolare giovani talenti su una tematica attuale ed estremamente importante nel prossimo futuro. Un corso assolutamente innovativo, la vanguardia, giovane, dinamico ed ha una durata triennale. La classe di laurea è alle 14, quindi servizi giuridici, ma la particolarità sta nel fatto che è un corso che intende caratterizzarsi sin da subito e quindi consentire che la formazione dello studente verta sui due settori, sulle due tematiche principali, quindi l'ambiente e l'energia sin dal primo anno. L'approfondimento avviene sin da subito. Tutto questo si accompagna poi un tirocinio presso una delle aziende convenzionate con il corso di laurea e l'abilità informatica e l'abilità linguistica, nello specifico l'inglese, giuridico ed economico. Questo perché è necessario appunto per consentire a chi dovesse conseguire poi il titolo di poter entrare direttamente nel mondo del lavoro e quindi avere già una formazione che gli consenta di padroneggiare gli argomenti dei due settori. Il corso unico nel suo genere si impone l'obiettivo di creare figure professionali con conoscenza approfondite in materia ambientale ed energetica, in grado di rispondere alle nuove esigenze lavorative e richieste dal settore privato e da quello pubblico. Devo personalmente ringraziare la Regione Abruzzo e anche il Comune di Lanciano per aver voluto fortemente questo corso di laurea, che non è soltanto un corso di laurea per la verità, perché in realtà si tratta dell'apertura di una sede universitaria. E poi il Comune di Lanciano ha già tenuto due riunioni con gli affittuari, quindi con le agenzie immobiliari, per concordare un prezzo di affitto calmerato che non potrà essere superiore a 200 Euro mensili. Anche qui in questo momento di polemica, se vogliamo, di critica giusta portata avanti dagli studenti, credo che questo sia offrire una risposta a chi non può mandare un proprio figlio a studiare fuori, mi riferisco alle grandi città del nord dove certo i prezzi non sono questi.